Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games, io come sempre sono Andrea e oggi vi porto una build talmente rotta che non ho messo neanche le mod. Sì, lo so che ora partirete tutti quanti con dei discorsi fenomenali dove, ah, non sai giocare, non me ne frega niente. Ragazzi, sta build non sta nei celoni in terra, non esiste, capite? Nel senso, io prendo il cacciatore, gli metto tre cose in croce, tre, e faccio quello che voglio, faccio veramente quello che voglio. Quindi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Se avete piacere di supportare il canale nella sua crescita attivamente, qui sotto trovate gli abbonamenti e i super grazie. Siamo col cacciatore, abbiamo ovviamente messo Blade Barrage. Perché? Perché sì, ragazzi, perché funziona maledettamente bene questa super con questa season, con questo rework della sottoclasse solare, che va veramente sfruttato al meglio. Poi, ho messo schivata dell'acrobata, schivare per eseguire un balzo acrobatico, quando atterri tu e i tuoi alleati divenite radianti. Molto utile, la radianza, in pratica, le tue armi sono rafforzate dalla potenza del viaggiatore e infliggono danno aumentato. Poi ho messo salto triplo, qua potete mettere quello che volete. Poi ho messo gioco dei coltelli, quello che lancia i tre coltellini che ora bruciano e hanno innesco, quindi fantastico. Utilizzo la granata termite, che è quella storica del titano, che fa impulsi di fiamma davanti, che brucia e ha innesco. Come nature ho messo abbattili. In pratica, le tue super solari sono migliorate, quindi fanno più danno. Pistola d'oro a colpo mortale ha una durata maggiore. Pistola d'oro a tiratore ha resistenza ai danni e durata aumentata. Blade Barrage, quindi sbarramento affilato, lancia più proiettili e questo è quello che ci serve. Oltre ad avere radiante, i colpi di grazia con il tuo coltello da lancio equipaggiato ricaricano completamente l'energia del corpo a corpo. Devo aggiungere altro? Io non credo. Dopodiché ho messo scommessa della polvere da sparo. Sconfiggi i bersagli con abilità, penalità solare o armi solari, per caricare un esplosivo solare improvvisato. In pratica, quel bossolo che lanciamo esplode e fa una fraccata di danni, ragazzi. Più o meno, ridendo e scherzando, si parla di 26-30 mila danni a mob colpito. E l'area che colpisce è veramente gigantesca. Quindi fate una pulizia mastodontica con quest'affare qua. Poi ho messo come frammenti tizzone dei raggi. I proiettili della tua super solare hanno una migliore acquisizione del bersaglio. Quindi saltiamo, spariamo la super a caso e i coltellini vedrete che vanno a cercarsi i nemici. Funziona molto bene, decisamente bene. Poi ho messo tizzone delle torce. Gli attacchi corpo a corpo potenziati contro i combattenti rendono una radiante. E qua avete già capito, io incomincio a tirare coltellini su coltellini, radiante io, radianti tutti e siamo fortissimi. Poi tizzone della meraviglia, sconfiggere rapidamente più bersagli con il nesco solare genera una sfera di potere. Io, come vedrete nel video, genero sfere viola. Ok ragazzi, sfere di vuoto. Perché? Perché come vi ho detto non ho messo le mod. Potete veramente fare quello che vi pare con questa build. Io vi consiglio di utilizzare qualcosa che vi velocizza la ricarica della granata. Ma, e c'è un ma, la carica di luce per aumentare ulteriormente i danni fatti dall'arma potrebbe essere molto utile. Perché ora andiamo a vedere che arma ho usato. Un'arma che odiate tutti, un'arma per cui vi prendete in giro tutti quanti, ma è fottutamente azzeccata. Ma, giuramento dei bruciatori ragazzi, non va più a ricercarsi il colpo, bisogna mirare, eccetera, eccetera, eccetera. Io la trovo ottima. Il danno ad area è aumentato, quindi colpisce più zona. Perché giocandolo spesso so perfettamente quanto era grossa l'esplosione. E attualmente l'esplosione mi sembra, mi sembra, molto più grossa. Quindi facciamo più danno. Siamo arrivati addirittura a fare 4.000 a colpo, 4-5.000 a nemico con headshot. Mi sembra che l'arma sia nettamente migliorata. E come fucile da ricognizione viene anche bene. Perché in questa season abbiamo le mod e sono molto utili. Poi, altra esotica da avere, è le scaglie del divorastelle. Questa è la prima build, ragazzi, che faccio, che necessita di un oggetto che va preso nei settori perduti. Scusatemi, non è una build che si può fare subito e al volo. Però, sapete già tutti come funziona. Raccogli sfere di potere per sovraccaricare la tua super. Arriviamo a un massimo di cariche e quando lanciamo la super vi renderete conto del disastro che riuscite a fare. Questa build è estremamente semplice. Ruota intorno a queste cose, ragazzi. Potete mettere le mod come più vi aggrada. Se vi piace giocare con le spade, magari potenziate le spade. Trovate una spada solare che lega molto con questa build. Funziona. Trovate un modo per ricaricare le granate velocemente con tutte le mod che ci sono. Le avete già viste nelle altre due build. Le uso spessissimo. E a me sembra tanto che questa season ruoterà intorno alla velocità di ricarica delle granate e delle abilità. Diciamo che un pochino il discorso di Bungie di basare le build e il gameplay sul solo capace a sparare sta andando un po' scemando con l'avvento delle 3.0. Ma la cosa non mi dispiace affatto. Io ora vi lascio al video di me che gioco questa build con delle mod completamente a caso e capirete già che così funziona benissimo. Noi ci rivediamo in un prossimo video sempre qua su Top Games. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se la conoscevate già e che mod mettereste voi soprattutto e che armi utilizzereste. Perché lo so che la odiate quella lì. Lo so ragazzi. Scusatemi. Ma per me funziona in maniera ottima. Oltretutto adesso ci sono veramente i cabal da tutte le parti e funziona. Funziona. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Noi ci rivediamo sempre qua su Top Games. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.